ragazzi m4 verde stiamo facendo tutto l'ho detto e lo è stato può costruire ci sono le bende quanto le vende e che ha sparato ragazzi ci sono le pozzette non le posso tenere ragazzi ci sono due paia di pozzette non le posso tenere aspetto fabio così vedi dove sono io 15 band allora resta tenendo disgrazia bende no no a sto punto l'oppressione pozzette ora delle due a prescindere dove sei attiva allora le pozzette le viene e abbiamo detto fabio fabio quante ne hai tu quante e 6 9 dai quindi se vuoi le m4 verde non lo vuole nessuno a parte fabio che si chiama tanto che ce l'ha l'ho preso io le mozzette deve lasciare ce l'ha tieni 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 e poi tieni sento piccolo tesoro può essere eh però non so eccolo eh un'altra pozza grande i violi e festa oggi Pasquale dimmi dimmi caro eh ma c'era un altro forziere che l'ho sentito dieci ho laggare partita lui sono soca di di che resta a tutte quelle presa pasquale dimmi volete bene grazie buone le pozzette di anni se si avanza così ok cosa ci siamo ne kit e ne vengo solamente ste vozzette ho detto le vende le raccolgo io non mi fa 15 band io qui non volete che vuole le bende ok visti c'è qualcuno 24 volte del cecchino ma stanno venendo per di qua comunque io la bomba del del coso del destino no del fortino vabbè c'è veniva o non rimaniamo l'uomo per rimaniamo l'ascondiglio così in casa è troppo speciale troppo speciale grazie ragazzi occhio che siamo in 16 per favore grazie sarete lanciamissi le cose dovevano cercare di darvi le munizioni io dio santo sei caduto però ancora è troppo sopra aspettiamo qua avrei paura che ci sarebbe qualcuno accanto a noi ma la scuola non ci dovrebbe prendere la scuola attaccati alla scala e stai tra la giampa la giampa la giampa non c'era se me lo vedete lasciare prendi lo prendi lo prendi forza e manca sullo chiede andiamo di rimanere grazie grazie non è calcolato i miei ovvio siamo campo aperto non mi piace siamo fuori prendiamo la giampa ma ci arriviamo perché la giampa vabbè la strada che conviene con la giampa bene o male sono vedrò un po a fare il portino gigante certo ragazza tutti accanto pasquale io non so come poi si sviluppa sto coso perché a prima volta lo lanci e si crea dentro dentro a dei cosi dentro dei pneumatici ti vanno a saltare arrivi sul bordo tutto qua va bene ci è non ce lo devo lanciare su di me in poche parole no lo devi lanciare davanti dove vuoi farlo il fortino di fronte a me innanzitutto entriamo a sinistra lo lanci a sinistra questo mi sembra di minaccioso no no piazza di 12 12 prima non piace sicuro non li vuoi colpire il cecchino e 3 lo bisse mi fai dando stanno fai dando ragazzi sono in 11 facciamoli fare in culo sì sì questo e vedo fabio del mira non mi convince fabio secondo me non so ma non sembra che lo vieno riprendiamo da dietro a questo hanno saltato già un po d'anno già un po disgraziati tutti dentro tutti dentro così almeno libero non posso sparare sto ragazzi siamo tutti full di scudo quindi mi raccomando fermo per il rumore fabio come la sera è pronto casquale limito aspetta aspettate fare cosa entriamo prima nella safe e poi se ne parla io vi dico una cosa se volete fare il fortino ci sgamano se non mi conviene farlo quando siamo 4 contro 4 è viola ragazzi sono in 3 ora o contro 2 contro 1 contro 1 contro 1 contro 1 direi di un ormai ora ragioniamo che ce la portiamo io direi di farlo qua ora la squadra passaglia io sono dentro chiudate le forze di corte che cazzo di corte che sali come il muzzo o no io sono già solo finchia buongiorno stiamo attenti eh ragazzi io non ho c'è chi muovetevi se facciamo altri rinforzi da fuori lo ho visti sono a 49 si sto facendo rinforzi da fuori mi sono caduto l'avete rotto muore mi rendete conto io no ve lo giuro è ancora è ancora nuovo vedete che c'è rotto i quali lanciarazzi c'è di lanciarazzi dove sono ragazzi io non l'hai dishoffato ragazzi l'astronauta l'hai dishoffato ragazzi l'astronauta l'ho dishoffato ragazzi l'astronauta l'hai dishoffato bravi anima bravissimo ma te lo devo vedere che è sono qua e il lanciarazzi oh non ne ho messo una a terra ragazzi l'astronauta lo è dishoffato ma dove sono a terra uno l'ho messo a terra bravissimo dai ragazzi dai ragazzi con calma contro 2 ammazzatelo 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 e ammazzatelo è qua sopra Poppio c'leai sotto è eliminato lo hai inciso ragazzi 6 ragazzi 6 ragazzi safe contro 1 occhio dai dai ce la possiamo fare stavolta ovvio se mori tu siamo consumati dove questo camperone c'è lo slurpo è qua ragazzi perciò 30 mila avanti augurare poi a me sperando ma chi mi ha sparato sandruzzo non è successo niente figlioli non è successo niente parate a mia madre lancerati no io no come chi ha preso lancerati qualcuno ha preso figlioli io non ce l'ho messo e che dici di no io non mi ho zero colpi ragazze la casa ragazza della casa ragazza della casa non mi è la risetta a posto che bellezza che bellezza mi chiamavano sa sandro chi di falco finalmente vittoria reale si penso di sì pensi pensi io ho registrato domattina domattina la granita c'è stato non ho fatto il balletto per capo di sé 0 mille l'abbiamo vinto non fate ritorno alla lobby non lo fate io ne ho fatta un altro popolo e bruno così c'è lì si mangia i comiti si 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 mangia i comiti si 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 mangia i comiti seee seee seee